Manifestazione di protesta questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Siracusa. I lavoratori e le ditte di servizi Mondus e Artemide hanno incrociato le braccia fermandosi per quattro ore e chiedendo l'applicazione del contratto di lavoro, il rinnovo di un appalto che non sia al massimo ribasso e il rispetto dei propri diritti sindacali. In settore ferroviario ci sono due aziende che lavorano sia ai Pantanelli che qui direttamente alla stazione di Siracusa. Seguono pulizie ed altre manzioni però oggi sono qui a protestare. Perché? Perché non viene rispettato il contratto nazionale, perché vengono legati i loro diritti più elementari a partire dal buono pasto, perché si continua a perpetrare una logica che è quella di tagliare i diritti ai lavoratori a partire dal salario per permettere a Trenitalia di praticare una politica di tagli continui sul settore dei trasporti ferroviari in Sicilia, perché questo è il vero problema che noi abbiamo. La Sicilia viene progressivamente abbandonata da Trenitalia, si tagliano servizi, si tagliano i costi degli appalti, a pagare sono i lavoratori impegnati nei servizi ferroviari e a pagare sono anche gli utenti perché viene ad abbassarsi ultimamente la qualità del servizio. Le loro, alle sue spalle, sono il terminale più debole. Il terminale più debole, i lavoratori degli appalti che appunto ne subiscono, subiscono la mancata attenzione da parte di Trenitalia per quanto riguarda appunto il cambio appalti. Negli appalti le aziende applicano nel massimo ribasso e quindi i danni che maggiormente ricadono ricadono sui lavoratori e sui servizi in tutto. Trenitalia dovrebbe essere più attenta, più attenta a dare un maggiore servizio, più attenta al lavoro che i lavoratori svolgono con attenzione nel nostro territorio. Dovrebbe investire maggiormente, investire per quanto riguarda la tratta appunto, il collegamento con l'aeroporto, ai pantanelli, lo scalomerci che ha avuto maggiori investimenti e che viene utilizzato in parte, Trenitalia dovrebbe maggiormente attenzionare quello che è il territorio, i servizi e i lavoratori che lavorano nel territorio e nei servizi ferroviari.